Ciao a tutti, benvenuti su Fairy ASMR. Io sono Federica e quello che state per guardare è un nuovo video ASMR rilassante. Vi consiglio di indossare le cuffie oppure gli auricolari, come farò anche io tra poco, perché durante tutta la durata del video mi sentirete parlare con questo tono di voce sussurrato. Come avete visto dall'anteprima, oggi utilizzerò il contenuto di una busta delle sorprese di Tiger per produrre dei trigger sonori, alcuni suoni rilassanti insomma. Spero che vi piaccia. Mi raccomando, fatemelo sapere come al solito, lasciando un like. Comunque, anche se il contenuto del video non è di vostro interesse, potete utilizzarlo per addormentarvi. Ultima cosa, se ancora non siete iscritti al canale, ricordatevi di farlo e di cliccare la campanella per avere tutte le notifiche dei nuovi caricamenti rilassanti. E in più, andatemi a seguire su Instagram, dove pubblico tanti aggiornamenti sulla mia vita e sul canale. Bene, prima di iniziare il video voglio darvi una notizia molto importante che penso possa farvi piacere. Il 6 ottobre sarò presente al Romics, presso lo stand di Pampling. Ci saranno dei giochi che saranno organizzati dai ragazzi dello staff e potremo salutarci, incontrarci. Spero veniate in tanti. A proposito di Pampling, la maglietta che indosso, come al solito, la trovate sul loro sito. E giù in descrizione vi lascio il link per aggiungerlo e il mio codice affiliato, il FETI, che vi dà il diritto al 20% di sconto se volete fare degli acquisti. Ma adesso mettetevi comodi perché iniziamo! Eccomi! Allora, ho voluto realizzare anche io un video con una busta sorpresa di Tiger perché ho visto che ce ne sono diversi qui in rete e la tipologia mi piace molto. Quindi ho preso questa busta. Dove c'è l'etichetta donna, quindi in teoria dovrebbe contenere oggetti che possono essere adatti per una donna. C'era anche la busta dedicata alle bambine, la busta dedicata ai bambini. Ma non ho trovato la busta dedicata agli uomini, chissà come mai. Io diciamo che con queste buste sono tornata un po' indietro nel tempo. Quando ero piccolo, infatti, in edicola vendevano le buste a sorpresa e dentro c'erano solitamente rimanenze di vecchi giornali e piccoli giocattoli. Erano molto belle quelle. Una volta ricordo che trovai all'interno di una busta il fumetto mad. Anche qui probabilmente avranno inserito oggetti di scarto, immagino. Comunque andiamo ad aprirla piano piano, cercando di fare suoni gradevoli. Un po' di stigge sounds. Vedete? C'è della colla. Ok. Proviamo a pescare. Questa è una busta da 3 euro, quindi all'interno ci saranno, immagino, 3 oggetti. Chissà, andiamo a vedere. Allora, il primo oggetto sembra molto carino. Dietro, c'è scritto, dietro alla confezione, supporti per immagini magnetici. Immagino si tratti di una sorta di portafoto. Andiamo a scoprire però com'è fatto. Intravedo semplicemente la forma delle stelle. Proviamo ad aprire la scatola. Vedete? Questa era la confezione. Non è male il tapping, lì? Eccoli. Sono molto più carini di quanto sembrasse. Allora, ok. Sono tre. E sono il primo a forma di luna. Vedete? Qui ovviamente ci va la fotografia. E qui c'è il magnete. L'unico problema è che ancora non so dove attaccarli. Vorrei trovare un supporto in metallo. Quest'altro. Guardate. Questo è un pianeta. Vero? Con il suo anello. E c'è sempre il magnete. Qui. E in ultimo. Questo. Che avete già visto? Quello con la stella. Sembrano però molto 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 carini. Questo è il supporto morbido. C'è Jesse che come al solito appare durante i video. E' molto curioso il mio gatto. Credo gli piangere l'SMR. E anche questi. Lo faccio scendere adesso. Andiamo con il secondo oggetto. Oh, che carino. Che cos'è? Piglietti con buste. Due pezzi. Qui c'è scritto La la la. No, oh la la. Il cuore rappresenta o no? Ora andiamo ad aprire. Sono carinissimi. Vedete? Questo è il cartoncino. Dentro è bianco. E' carino anche per scrivere magari gli auguri di compleanno. Per accompagnare un regalo. E poi C'è la sua busta. Da lettera. I pezzi in tutto sono due e due. Questo è veramente molto molto carino. Andiamo con il terzo oggetto. Chissà se è l'ultimo. Ok. Questa è facile. E' una penna. Una penna verde. Fatta così. Vedete? Ha l'impugnatura morbida. A c'è si piace? Vuoi scrivere anche tu, amore? Vuoi scrivere? Chi vuoi la penna, amore? Vedete il mare tutto? E' lì. Se poteste vederlo. Fa morire dalle risate. Allora volevo provare a scrivere. Facciamolo qui. Magari già si potresti toglierti pronto davanti. Dai. Su. Ok. Grazie. Vediamo un po'. Non so se riuscite a vedere a un tratto un po' particolare. Sembra più che altro una penna pennarello. Molto liquido il tratto. Comunque sicuramente non riuscirete. Ho scritto ciao a tutti. Non riuscirete a vedere. Ma non lo so dovrei provarla. Però a me piacciono moltissimo le penne. Poi adesso conto di decorare la mia agenda. Però ci sta. Poi è intonata con il resto della musica. C'è ancora qualcosa. Andiamo. Questo. Oh cavoli. Guardate. È fantastico. Sembra fatto apposta per me. Questo è un block nose. E sopra c'è scritto Relax. E poi c'è scritto Ovviamente c'è un fumetto qui. Penso l'ho riusciata a vedere. Sì. E poi ci sono varie opzioni qui sotto. Take a pill. I'll help you. Everything will be ok. Everyone loves you. From. Molto molto carino. Vediamo se riesco a Abrelo. 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 Ah, sono adesivi questi post-it? Molto molto carini Ok, adesso dovrebbe essere l'ultimo oggetto, quello qui Oddio, una cannuccia? Ma com'è possibile? Ah, non è una cannuccia, è una penna a forma di cannuccia Un'altra penna, però questa è molto molto carina Vedete com'è il tappo? È forato qui Questa è nuova, c'è ancora la protezione Vediamo un po' se scrive Ok, questa è una semplice penna Blu È molto carina Bene La mia busta di tiger è vuota adesso Spero tanto che questo video vi sia piaciuto Non dimenticate di farmelo sapere lasciando un mi piace E naturalmente lasciate anche un pensiero felice Come segno del vostro passaggio Anzi, se siete arrivati fin qui Scrivete nei commenti cannuccia verde Così saprò che avete visto il video fino alla fine E se volete vedere altri video rilassanti Ve li lascio qui Nella schermata finale Qualche altro video che potrebbe piacervi Noi ci vediamo come al solito Se vi va Nel prossimo video Pascini fatosi Pascini fatosi